Ma quello che determina veramente il cambiamento di coppia, di famiglia, di assetto, di equilibrio, dopo l'arrivo di un figlio, dipende moltissimo dalle convinzioni con cui noi approcciamo alla famiglia e alla maternità. Cioè una convinzione che cos'è? Una convinzione è ciò che pensiamo sia vero, quindi ciò che pensiamo sia verità. Siamo convinti che quella cosa lì significhi quell'altra cosa. Quindi le convinzioni portano le persone ad avere un'idea di che cosa significa essere madre, di che cosa significa essere moglie dopo i figli, di che cosa significa essere famiglia e spesso queste convinzioni sono il primario fuoco, il primario innesco che porta le persone a fare determinate scelte. Ciao e benvenuta, benvenuto in questo nuovo episodio del podcast di Eralice. Spero di trovarti bene e oggi ho un invito per te. Qualora non lo sapessi già, ho aperto il mio incontro delle sei del mattino per iniziare la settimana alla grande, in modo spumeggiante, straordinario. L'ho aperto a tutto il mio pubblico, quindi è un incontro gratuito che si tiene alle sei del mattino del lunedì per iniziare con energia, intenzionalità, fissandosi un obiettivo per la settimana, facendo una riflessione, una connessione col presente. Ed è un incontro che io porto avanti dal 2020. I partecipanti mi dicono che è un punto essenziale della loro settimana, quindi puoi iscriverti per ricevere gli inviti con i link ogni lunedì, anzi l'invito si riceve la domenica per partecipare lunedì alle sei per collegarti, trovi il link qui sotto ed è completamente gratuito. Quindi iniziamo questa puntata, volevo ridirvelo se non l'avete già visto sui social o sulle altre puntate, anzi sulla puntata dedicata del Miracle Monday e iniziamo questa puntata, puntata super importante che sento molto mia, si parla di coppia con figli, quindi sia che voi siate una coppia con figli, sia che voi vogliate avere figli e magari siete in coppia, quindi magari avete paura che le dinamiche cambino, oggi rispondo a una domanda chiave sull'argomento, quindi lascio subito la parola a Annalisa che mi ha fatto la domanda. Ciao Alice, sono Annalisa e ho una domanda. Io volevo sapere, dopo che hai avuto i tuoi due bambini, come sei riuscita a ristabilire un equilibrio a livello familiare, coniugale insomma, di coppia, come riesci ad oggi a dare valore al tempo, dare qualità insomma al tempo passato assieme con Michael, come riesci a gestire tutto ciò e non trascurando chiaramente l'aspetto del legame anche con i bambini, quindi cercando un attimo di far quadrare tutto e che voi tutti siate felici nel complesso. Spero mi possa insomma rispondere, ti auguro una bellissima giornata, un abbraccio Annalisa. Ti ringrazio Annalisa per la tua domanda, che credo risuonerà nelle casse di tantissime famiglie, donne che si chiedono come riuscire a mantenere l'equilibrio, ritrovare l'equilibrio dopo l'arrivo di un figlio. Equilibrio che sicuramente viene cambiato, minacciato, sarebbe controproducente pensare che nulla venga cambiato, anche per le coppie che si fortificano dopo l'arrivo dei figli, succede anche questo, cioè che alcune coppie funzionano ancora meglio dopo aver affrontato la maternità e avendo anche un ruolo genitoriale insieme, però sicuramente bisogna ricercarlo e ritrovarlo questo equilibrio. E oggi voglio parlare di tanti spunti perché penso di poter dare un punto di vista un po' diverso rispetto magari a quello che è il punto di vista standard italiano. Probabilmente troverò alcune critiche in questa puntata, ma ci sta nel senso che io parlo della mia opinione, che non è assolutamente la verità e anche quello che funziona per me potrebbe non funzionare per gli altri. Quindi io non penso di aver trovato l'equazione, però per mia natura io sono cresciuta con due culture diverse, perché mio papà è inglese, quindi ho tutta la parte inglese e mia mamma è italiana, quindi ho... e poi tra l'altro la mia famiglia italiana non è tradizionalissima, quindi non ha un concetto di maternità così tradizionale, totalizzante come quello invece italiano. E quindi magari posso dare qualche spunto per chi ricerca un modo diverso per vivere la maternità e la coppia. Partiamo dal presupposto che vi potrei fare un podcast delle quattro strategie per rimanere coppia con tuo marito dopo che si hanno dei figli, ma sarebbe forse riduttivo, perché le strategie sono veramente l'ultimo a punta dell'iceberg. Le strategie si trovano, ne parleremo alla fine di questa puntata, ma quello che determina veramente il cambiamento di coppia, di famiglia, di assetto, di equilibrio, dopo l'arrivo di un figlio, del primo, del secondo, del terzo, insomma quello che ha ogni figlio sicuramente porta a un cambiamento enorme nella famiglia, degli equilibri familiari, dipende moltissimo dalle convinzioni con cui noi approcciamo alla famiglia e alla maternità. Cioè una convinzione che cos'è? Una convinzione è ciò che pensiamo sia vero, quindi ciò che pensiamo sia verità. Siamo convinti che quella cosa lì significhi quell'altra cosa. Quindi le convinzioni portano le persone ad avere un'idea di che cosa significa essere madre, di che cosa significa essere moglie dopo i figli, di che cosa significa essere famiglia. E spesso queste convinzioni sono il primario fuoco, il primario innesco che porta le persone a fare determinate scelte. Purtroppo, e dico purtroppo con cognizione di causa, la cultura italiana ha delle convinzioni estremamente, secondo me, limitanti e anche pericolose in alcuni sensi su quello che significa essere madre, perché è una cultura che ti porta a pensare che nel momento in cui diventi mamma, ma vedremo anche alcune altre sfumature. Viviamo comunque in una società dove c'è ancora veramente poca parità nella genitorialità, quindi anche questo ha un impatto, ma ci arriviamo. Però principalmente il ruolo di madre è un ruolo totalizzante, cioè la società si aspetta che quando una donna diventa madre debba necessariamente rinunciare un po' a tutti gli altri ruoli nella propria vita, perché quello di madre è totalizzante e tu sei una buona madre nella misura in cui rinunci. Quanto più rinunci, quanto più sei una buona madre. Quante volte vi sarà capitato di sentire dalla vostra mamma o dalla vostra nonna, ho rinunciato a tutto per te e tu adesso mi ripaghi così, perché poi c'è anche questa cosa del devo essere un bravo figlio perché tu hai rinunciato a tutto per me. È vero, le madri brave sono le madri totalizzate, le madri che rinunciano, le madri che dicono adesso con mio figlio sono completa, adesso con mio figlio non ho più bisogno di nient'altro. Sembra quasi che ti venga detto che è biologica questa cosa, che quando c'è tuo figlio tu non dovresti più aver bisogno di nient'altro e quando tu parti da questa convinzione è chiaro che avere un concetto famiglia centrica dove anche la coppia, anche i bisogni della coppia hanno un valore all'interno del concetto famiglia è molto difficile, perché in realtà in Italia c'è questo modello che è figlio centrico, dove i bisogni del bambino non solo sono prioritari, cosa che penso sia per tutte le famiglie sane, dove ovviamente un bambino nasce e ha il diritto di essere ascoltato nei suoi bisogni, ha il diritto di essere curato, ha il diritto di essere accolto, curato, protetto e prioritario per i genitori e per le figure di cura, però i bisogni del bambino diventano a prescindere da. Mentre un modello più famiglia centrica, di cui avevo parlato già probabilmente in qualche podcast, che è un modello che noi utilizziamo all'interno della nostra famiglia, quindi un modello di cultura della famiglia è un modello dove ogni individuo ha i propri bisogni, compreso il bambino, che ovviamente quelli del bambino hanno un peso diverso magari dai miei, però i miei non sono completamente nulli, non vengono completamente abbassati, così come la coppia dei bisogni, così come le relazioni mamma figlia, mamma figlio, come la relazione tra fratelli, insomma tutte le relazioni e tutti gli individui all'interno della famiglia devono poter esprimere i propri bisogni e questi bisogni vengono presi in considerazione. Non significa che possano sempre essere soddisfatti come lo si vuole, perché ci sono dei compromessi, ma essendo un modello famiglia centrico diciamo che si possono pensare, o meglio il nostro obiettivo continuo è quello di trovare strategie che permettano di avere un modello sereno, dove le persone hanno il diritto alla felicità, alla serenità e quando questo non avviene si cercano strategie che possano permettere di farlo avvenire. Questa è una cosa abbastanza nuova se ci pensiamo, proprio perché è controintuitiva e la vorrei spiegare, non è semplice spiegarla, perché non è semplice spiegarla? Perché è controintuitivo pensare che nel momento in cui nasce un figlio, se una coppia ha bisogno di tempo, di comunicazione, uno dice vabbè però ti è appena nato un figlio, è chiaro che non ce l'hai e sono parzialmente d'accordo, perché come dicevo non è che uno quando esprime un bisogno, cioè un bisogno di coppia immediatamente debba essere soddisfatto, quando nascono dei figli ovviamente fai dei compromessi, riconosci che il figlio, per esempio il figlio non dorme per una settimana perché è ammalato, tu vorresti tanto uscire a cena con tuo marito, non ci puoi andare, dopo parleremo di aiuti esterni, non ci puoi andare, non ci puoi andare, cioè hai tuo figlio, è appena nato, è piccolo, è ammalato, le cure vanno a tuo figlio, ma è l'atteggiamento su cui voglio farvi porre l'attenzione, cioè l'atteggiamento del dire se io approccio al modello famiglia o approccio al modello genitoriale madre con il fatto che qualsiasi bisogno, qualsiasi necessità umana che prescinde dalla maternità, allora è sbagliata, è chiaro che io gli sopprimo questi bisogni ed è chiaro quindi che i miei atteggiamenti, i miei comportamenti seguiranno questa convinzione e quindi sarà difficile curare la coppia dal momento in cui penso che sia assolutamente secondario e sia assolutamente sbagliato provare e pensare di avere delle necessità rispetto all'essere madre. Quindi se io parto dal presupposto che la maternità debba essere totalizzante, è chiaro che tutto il resto prende immediatamente un ruolo estremamente secondario, di contorno e quindi quando il ruolo è di contorno è difficile trovare delle strategie che possano portare anche dei sacrifici da parte di quelli che possono essere delle mie necessità per riuscire a curare la coppia o la famiglia o l'individuo, quindi anche proprio la individualità e quindi chiaramente bisogna partire da questo. Io e Michael abbiamo fatto un discorso molto consapevole prima di avere figli su questo, cioè ci siamo e qua è un punto importante che la coppia parli del modello famiglia, perché secondo me è troppo presa biologicamente sta cosa di avere figli, cioè quando tu decidi di avere un figlio in realtà stai costruendo un nuovo sistema che è il sistema famiglia. Questo nuovo sistema è come dire faccio nascere un'azienda, capitemi, sono due cose completamente diverse, però è una scelta che noi facciamo, ok? In tanti casi, in alcuni casi capita e va bene, però al momento in cui capita comunque questa discussione bisogna averla in ogni caso. Ma se noi scegliamo di creare una famiglia, perché non ci sediamo a tavolino? Almeno io sento pochissime persone che si prendono questa responsabilità di sedersi a tavolino e dire ma per te cosa significa famiglia? Per me cosa significa famiglia? Qual è il tuo desiderata nella famiglia? Perché nessuno può dare un modello universale, ma il modello viene costruito da quelli che sono i fondatori della famiglia e cioè i genitori. Creano una famiglia e decidono di crearla secondo i propri valori, secondo le proprie credenze, secondo le proprie necessità. E quello che è interessante è che chiaramente io posso, io persona che faccio una famiglia con persona B, possiamo avere delle divergenze magari di opinione, di visione e nel sistema famigliocentrico queste divergenze vengono sempre snocciolate, sciolte attraverso poi dei compromessi. Cioè io cerco di capire te, tu cerchi di capire me e troviamo un compromesso. A volte vinci tu, a volte vinco io, però insieme creiamo un sistema famiglia. Questo è fondamentale e sono le basi secondo me per poter trovare, ritrovare equilibrio nella coppia. Perché nel momento in cui si ha un figlio, e anche se ce l'avete già non è troppo tardi per fare questi discorsi, sedersi a tavolino e chiedersi cosa significa per te essere un bravo genitore? Cosa significa per te essere coppia dopo i figli? Cosa ti immagini a livello organizzativo? Cosa ti piacerebbe mantenere se potessimo immaginarlo? Poi non è detto che ci riusciamo, ma idealmente cosa ti piacerebbe? E così si crea una visione e questa visione è a 360 gradi, è una visione olistica, ok? Della situazione vita con la famiglia. E qua si aprono due temi importanti di questa puntata. Il primo tema è il tema appunto della creazione di una visione. Il secondo tema è il significato di partnership nel momento in cui si diventa genitori. Entrambe le cose sono necessarie per poi chiedersi come trovare e ritrovare equilibrio dopo l'arrivo di un figlio. Partiamo dalla partnership. Molte coppie si allontanano quando nasce un bambino. Si pensa erroneamente che prima di avere un figlio, forse un figlio potrebbe anche addirittura andare a sanare delle spaccature all'interno della coppia, cosa che spesso non accade, perché anzi un figlio tende ad allontanare. Proprio perché i genitori sono al 50-50 responsabili di questa nuova creatura che è nata e se non hanno una partnership, una comunicazione aperta, tendono ad imporre quelle che sono le loro convinzioni e vince uno dei due. E quindi diciamo che poi c'è la spaccatura, perché c'è lo scontro per il fatto che magari tu imponi le tue convinzioni nella modalità in cui cresci tuo figlio. Io mi sento addirittura che sono al di fuori della vostra relazione, al di fuori del sistema famiglia e magari questo porta a delle tensioni molto forti. Io e Michael ci siamo estremamente uniti. Credo che non potrei avere la relazione che ho con Michael di quella tipo di profondità senza la genitorialità, perché è un'aggiunta enorme il fatto di essere insieme in partnership per crescere delle nuove vite. Quindi è qualcosa di enorme, però questo ha dovuto portare noi a crescere come individui e a crescere anche come coppia, perché dobbiamo assicurarci di poter mantenere una comunicazione aperta. Cioè noi ci siamo chiesti qual è il tuo ruolo, qual è il mio, qual è il mio desiderata, qual è il tuo. Faccio un esempio qui. Nel momento in cui si diventa genitori è inutile dire si fa così. Cioè magari la donna dice questo è mio figlio e quindi io so cosa è meglio per lui. E magari l'uomo dice ma magari possiamo parlarne insieme cosa è meglio per lui. Potrebbe essere che ad esempio ci si mette a tavolino e la donna dice io voglio dormire con mio figlio perché poi diventerà grande e non me lo godrò più. E magari il marito potrebbe dire ma io non voglio dormire con mio figlio perché mi porta via quello che è quel poco tempo risicato che ho con te. E quindi penso che possiamo trovare un compromesso. Magari possiamo stare con il nostro figlio nella cameretta fino all'addormentamento, avere dei momenti comunque di coccole, avere dei momenti insieme, avere dei momenti di contatto. Ma quella che rimane la nostra camera è un luogo intimo dove noi possiamo anche parlare alla sera, dove noi possiamo avere un momento, accendere la luce senza che questo venga completamente tolto in una vita molto complessa. Queste sono due persone mature che parlano, sono due persone mature che mettono in gioco il loro desiderata, i loro bisogni. Questo è necessario per poter trovare un equilibrio. Poi la risposta giusta io non la so, io so la risposta che abbiamo scelto noi su questo punto, che è la risposta di preservare la nostra camera. Noi abbiamo, siamo stati estremamente convinti dal primo giorno che i bambini non dormivano nel lettone con noi e così è stato. Gli abbiamo cresciuti come se fosse una naturalità, hanno dormito nella nostra cameretta fino ai sei mesi nella culla, poi sono andati nelle loro camerette da soli. Noi ci siamo per l'addormentamento, noi ci siamo prima ovviamente cioè per tutto, per le coccole e loro dormono sereni. È stata la nostra scelta questa, di non avere il co-sleeping e per noi ha ripagato molto perché, tra l'altro i bambini, noi li mettiamo a letto molto presto perché i bambini hanno bisogno di dormire. In Italia c'è un po' la cultura di lasciarli svegli fino a tardi. I bambini ripagheranno, se vanno a letto alle otto, stanno bene perché dormono bene nella loro camera, nel buio, hanno la loro routine. Questa è secondo me una cosa molto sana, secondo me è una visione più nordica però e per noi ha ripagato questa scelta. Ci siamo messi a tavolino, ce lo siamo chiesti, ci siamo chiesti cosa andasse bene uno per uno per l'altro e abbiamo negoziato in questa cosa. Così come magari la partnership può significare che un uomo dica io voglio andare a calcetto due sera a settimana e non voglio cambiare nessun tipo di routine della mia vita perché alla fine ho bisogno di sfogarmi e la donna possa dire no. Questo non funziona nella nostra partnership, adesso c'è un nuovo essere umano e dobbiamo dividerci le responsabilità. Quindi se magari tu vuoi andare una sera, l'altra sera vado io e ci dividiamo le responsabilità. Ho scoperto l'acqua calda con questo? No, però vi assicuro che la maggior parte delle persone si accinge alla genitorialità senza parlare, senza mettere quelli che sono dei desiderata, senza mettere quelli che sono delle linee guida che noi seguiremo come famiglia, senza neanche chiedersi come preserveremo la nostra coppia, dove troveremo dei tempi insieme, di cosa abbiamo bisogno come persone, come individui, cosa potremo fare nel momento in cui arriverà un figlio o adesso che c'è, come possiamo aggiustare questa cosa. E questo deriva, come dicevo, dal fatto che è come se quando arriva un figlio la partnership non fosse più così importante e noi invece la vediamo come se la partnership fosse proprio le fondamenta, i founders, i fondatori della famiglia. Quindi se noi vacilliamo come partner, la famiglia ne risente. Quindi noi la vediamo come una cosa prioritaria, il fatto di mantenere sana la nostra coppia, che non è solo l'intimità di coppia o il tempo di coppia, ma proprio mantenere una comunicazione aperta. Ma non è facile perché sei stanco, sei provato. I figli ti mettono a dura prova e non è che è tutto unicorni quando vi dico questo, ma vi dico che se parti dalla convinzione, lavori quindi dalle basi, le azioni andranno a seguire le basi. Quindi se tu parti dal modello dove la coppia è importante, non potrai fare finta di niente. Quindi nei periodi più difficili, dove i bambini non dormono, dove sono sempre ammalati, dove non ci sono aiuti, dove noi dobbiamo tornare al lavoro, ci massacriamo per tutto, non potremo fare finta che la coppia non conta niente. Se parto invece dalla convinzione che io madre non posso avere altri bisogni perché tanto adesso c'è mio figlio ed è la cosa più importante della mia vita e lo è, perché anche per me, che sono famiglia centrica, i miei figli sono le persone più importanti della mia vita. Non c'è proprio discussione su questo. Lo so dal momento in cui se penso che dovessero avere bisogno, io mollerei tutto in un secondo. Ma questa è la straordinarietà. Nell'ordinarietà quotidianità so che il sistema che permette di rendere questa famiglia funzionale, felice, una famiglia serena, ecco, in questo sistema anche la coppia è importante. Quindi quando io so che la coppia è importante, si cercheranno strategie anche nei momenti più impensabili per poter mantenere un equilibrio. Ci tengo anche a dare un altro spunto importante del ruolo totalizzante della madre. Ho visto diverse volte sui social, ho visto questi reel strappalacrime che immediatamente anche per me sono super emotivi, emozionali, dove fan vedere i bambini quanto crescono velocemente e tu ti dici la prossima volta che tuo figlio piangerà avrai più pazienza perché ti renderai conto che dopo un attimo è un soffio che cresce. La prossima volta che tuo figlio avrà un incubo te lo porterai nel lettone perché non potrai più averlo così piccolo, perché poi non ti abbraccerà più, perché poi non ti non ti amerà più, perché adesso tu sei il centro della sua vita e dopo non lo sarai più. E quindi dato che tu genitore, soprattutto madre, sei il centro della sua vita, goditi questi momenti perché poi non lo sarai più. Loro avranno degli amici, avranno una vita e allora li perderai in un certo senso e quindi tu spremi ogni goccia di questa cosa. Poeticamente in un reel di 30 secondi tutti si sciolgono. Poi se tu ci pensi è malsano, almeno per me. È malsano da due parti. La prima parte è malsano perché tu, cioè tu praticamente prendi tuo figlio e dici io voglio sentirmi al suo centro e questo mi rende soddisfatta. Quando invece non è quello il punto, cioè io penso che il ruolo di un genitore non è essere amato alla follia, ma un ruolo di un genitore è quello di far crescere un adulto funzionale. Quindi tu come genitore dovresti un po' staccarti dal tuo ego e quindi il tuo figlio non deve essere il tuo progetto. Questo lo dico spesso. Tuo figlio non è il tuo progetto. Tu sei un accompagnatore di tuo figlio in modi diversi, in base all'età. All'inizio sei totalizzante per lui, perché gli devi far tutto, pian piano gli dai le sue autonomie e quando lui le conquista quello è motivo di soddisfazione. Non è motivo di soddisfazione il fatto che tu sia il suo centro e quando dici oddio a sei anni ho passato già tutto il maggior tempo perché adesso lui avrà uno sport eccetera. Ogni età ha il suo senso. È inutile che noi viviamo ogni età con l'idea che la perderemo, ma viviamo ogni momento con l'idea che è quel momento. Cioè lo trovo molto più sano. Cioè questa cosa del devo fare tutto in esagerazione e tutto il resto lo posso mettere in pausa, in stand by perché questa cosa finirà, mi fa pensare che è un pochino malsano questo, questo atteggiamento. Perché nel frattempo non è che la vita si ferma. Ed è questo l'altro punto focale. Nel frattempo la vita va avanti. Quindi non è che io dico vabbè adesso ho avuto un figlio, ce l'ho, me lo godo e non me ne frega più niente mio marito, la esagero. Ma vabbè, ma tuo marito c'è, cioè non è che lo metti in pausa dentro l'armadio per sei anni e tra sei anni ci rivediamo. Così come la carriera. Oggi la media di fare il primo figlio sono 34 anni, il secondo 37. Sono anni di costruzione delle nostre vite. Quindi anche la carriera la metto completamente in pausa, poi sono scelte. Però se uno la vuole la carriera, non è detto che tutti la vogliano, quindi se non la vuoi non è un problema. Ma se tu la vuoi devi pensarci a un modo per mantenerla questa carriera. Perché anche quella non va in pausa. Anche il mondo del lavoro purtroppo non va in pausa. Così come il corpo. Non è che dico non mi alleno più, non mi interessa più di me stessa, di prendermi cura. Perché quello che faccio a 30 anni è quello che poi si ripercuota a 60. Quindi in realtà quello che si perde nella maternità secondo me è la concezione del fatto che noi rimaniamo individui. Per quanto noi pensiamo che diventiamo un tutt'uno con nostro figlio. Non è così. È molto poetica la cosa ma non è così. Quindi io amo mio figlio fortemente, mi cambiano tutte le priorità, mi cambia il modo di pensare, mi divento più ansiosa. Tutto, ce l'ho avuta tutte anch'io. Però questo non mi porta ad essere un tutt'uno con lui. Quindi significa che sarà fondamentale nel tempo rendermi conto che la mia vita è olistica. Non è che perché lui è piccolo una volta sola, allora io devo averlo con me letto tutte le sere. Non è una giustificazione, non è una motivazione. Soprattutto se questo magari toglie da tutte le altre cose che nel frattempo stanno andando avanti. Non so se lo riesco a spiegare. Mi è capitato di vedere al contrario dei contenuti di persone che dicevano questo è il modo in cui io con mio marito ci siamo trovati dopo i figli. Abbiamo fatto in modo che ogni sera li mettiamo a letto e poi noi ceniamo insieme. Facciamo un weekend a soli ogni anno e le persone sotto con una rabbia incredibile che dicevano eh ma hai avuto un figlio adesso non lo vuoi. Ma non è vero. Avete presente il concetto di equilibrio? Se io ceno con soprattutto i bambini molto piccoli che magari cenano anche alle sei e mezza o alle sei. Va benissimo per un bambino cenare alle sei. Questa cosa in America è la normalità che i genitori cenano con i bambini presso poi mettono via tutto e poi fanno la cena loro dopo che li hanno messi a letto perché in America non c'è il co-sleeping. È una cosa molto italiana quindi nel letto anzi ti direbbero tutti che è anche molto pericoloso avere un bambino nel letto quindi ti direbbero ma stai bene tutto bene che ti prendi il bambino nel letto perché gli fa male. Quindi ci sono proprio delle e qua in Italia invece ti consigliano di tenerlo nel letto. Quindi sono proprio culture completamente diverse. Però se tuo figlio cena alle sei e tu sei lì e ci sei presente e ti godi il momento al 100% e poi tuo figlio serenamente va a letto ha il momento dell'addormentamento, il momento della coccole e tutto e dopo vuoi fare una cena con tuo marito? Dov'è la cosa non sana? Anzi la trovo molto sana questa cosa perché ci rendiamo conto che la nostra vita non è shiftata tutta su nostro figlio, si è allargata. Adesso c'è mio figlio che mi impegna sicuramente tantissimo tempo, energia e emozioni ma tutto il resto non è in stand by. Però questo parte da una concezione, cioè parte da quello che noi pensiamo significhi essere madre. Arrivo al punto della visione. Che visione ho io per la mia famiglia? Cosa significa? Qual è la definizione di essere un buon genitore, una buona madre? Anche lì bisognerà lavorare per avere un equilibrio di coppia perché una visione di essere una buona madre significa lasciare andare tutto il resto, farò fatica a trovare un equilibrio. Se una visione di essere una buona madre è una visione di essere una donna strutturata, essere una donna felice, essere una donna realizzata, essere una donna presente, avere una relazione sana. Dove è possibile? Perché poi le relazioni anche finiscono, i bambini non succede niente. Però in generale se io ambisco a prendermi cura di me, a prendermi cura anche della persona che sono, oltre ovviamente a tutti i bisogni dei miei figli, oltre, cioè faccio senza dirlo. Però lo ritengo una cosa importante, è chiaro che questa è la mia visione essere madre. Cioè io oggi a 37 anni dico io voglio che i miei figli vedano una donna forte, una donna serena, cioè voglio essere presente, voglio essere piena quando vado da loro, devo avere dei serbatoi pieni. Voglio che vedano una relazione rispettosa per quanto il mio matrimonio potrà funzionare o meno nel futuro. Io non ho la sfera di cristallo, adesso sto facendo il mio meglio perché funzioni, però sicuramente due genitori che si rispettano, che comunicano, vedere questa figura in modo che loro possano rivedere delle relazioni sane, riconoscerle. Voglio guadagnare abbastanza oggi per potergli dare un futuro. Per me è importante questo. Quindi tutte queste cose hanno un ruolo genitoriale secondo me. Quindi se io devo andare a lavorare, voglio andare a lavorare perché questo mi permette di assicurare ai miei figli determinate cose che per me sono importanti, lo trovo una caratteristica di un buon genitore. Per me è Alice, non universale. Però è chiaro che se nella nostra visione del buon genitore c'è il sacrificio completo di tutto, faremo fatica a trovare spazio per la coppia. Lo so che qualcuno mi odierà per quello che sto dicendo. È la mia visione. Cioè quello che voglio portare è una visione diversa per chi la sta cercando. Per chi non la sta cercando ci sta che non risuoni. E io ho tantissime insicurezze come mamma. È per questo che ci lavoro. Ci lavoro su una mia definizione di buona mamma e faccio veramente il mio meglio. Chiedo aiuto, chiedo opinioni, mi metto in gioco, mi metto in discussione. Quindi non voglio che questo passi come un questo è il modo. Ma se qualcuno mi chiede come trovare un equilibrio con tuo marito, si passa da qua. Cioè si passa dal presupposto che diventare madre non significa lasciare andare tutto il resto. La parte di strategia è quella più facile, come dicevo. Ci sono persone che non hanno zero aiuti. Uno, chiedersi davvero ne ho zero o potrei pagare per un aiuto anche due ore a settimana, due ore al mese. Se proprio non posso, non ho aiuti, non ho cugini, non ho amici, non ho nonni, non ho nessuno, 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 nessuno mai. Trovare delle strategie e creare delle routine interne alla casa che permettano di. Metto i figli a letto e ho una cena insieme. Anche solo una volta a settimana. Cucinare insieme, svegliarsi. Io per esempio con Michael mi sveglio prima che sveglio i bambini. Mi sveglio per prima io come individuo alle cinque. Alle sei sveglio Michael e stiamo mezz'ora insieme. E alle sei e mezza svegliamo i bambini. Secondo voi è facile tutte le mattine fare questo. No, è una strategia che ho scelto per avere un'ora per me, individuo, mezz'ora di coppia e il resto di famiglia. Non ho un aiuto. Non è che dico al mattino io sono con mio marito perché arriva la nonna. Non è così. Quindi l'abbiamo scelta. Chiaro che io credo che, soprattutto man mano che i figli insomma diventano un po' più grandi, avere una rete di supporto aiuta. Perché comunque anche avere un vicino di casa dove il bambino va a dormire dall'amichetto per una sera, avere il lusso di fare un weekend di coppia. Molti di voi hanno i nonni, cioè moltissime persone hanno i nonni. Chiedere ai nonni un pochino di aiuto qua, un pochino di aiuto là, può aiutare a ritagliarsi anche qualche spazio in più. Con i vostri tempi, con i vostri modi. Non per tutte le coppie è uguale. Io sento delle coppie che dicono noi ci facciamo magari la settimana via tutti gli anni senza bambini. Per me una settimana via mi toglie il fiato. Due giorni riesco a fare. Ho fatto anche due giorni andando via piangendo. Poi sono tornata contenta di averli fatti perché ne avevo bisogno. Quindi magari non era la mia idea ma era l'idea di Michael. E quello che dicevo prima, la partnership insieme abbiamo scelto che quello funzionava. E quindi ho detto va bene hai ragione. Io magari in questo momento sento molto attaccamento ai bambini però abbiamo bisogno anche noi. E quindi magari abbiamo fatto i due giorni, sono andata via piangendo e ripeto sono tornata che ne avevamo bisogno. Quindi i punti focali sono che definizioni hai dell'essere una buona madre? Che partnership stai costruendo con il tuo marito o con insomma l'altra persona della coppia? Stai dicendo i tuoi bisogni? Hai una visione di cosa significa sistema famiglia? Che strategie possiamo adottare per trovarci e ritrovarci? Sicuramente una comunicazione aperta è la prima base anche di un'intimità più più solida di coppia. Intimità non è solamente fisica ma sto parlando di un'intimità emotiva, un'intimità mentale che ti permette di essere partner perché sennò se siamo uno contro l'altro si fa molta fatica. Io spero di avervi dato qualche spunto per chi lo stava cercando. Prendete quello che vi ha risuonato, lasciate andare il resto e la mia esperienza non è universale, non è necessariamente giusta. Solo il tempo lo dirà. Magari un giorno mi pentirò di aver curato anche la mia persona e la mia coppia. Non lo so, non lo posso saperlo, ok? Per ora diciamo che le cose per noi così funzionano. Funzionano per i bambini, funzionano per i genitori, funzionano per l'individuista, funzionano nella nostra vita. Fatemi sapere cosa ne pensate. Sono molto molto aperta al dialogo qui e anche alla critica. Quindi se non siete d'accordo mi fa sempre molto riflettere anche quando qualcuno mi porta a un vissuto diverso. Quindi sono assolutamente aperta. Fatemi sapere, vi mando un abbraccio, un bacio e noi ci sentiamo al prossimo podcast. Ciao!